Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la storia del calcio che si intreccia con il giorno della memoria e con la seconda guerra mondiale. Dopo aver parlato una settimana fa della partita della morte e aver scoperto la vera storia dietro la partita della morte, torniamo con un altro argomento e con un altro ospite per parlare di un altro personaggio leggendario legato all'olocausto in qualche maniera e soprattutto diventato un vero e proprio mito per la lotta contro il nazifascismo, un vero e proprio simbolo. Parliamo di Mattias Sindelar, carta velina, uno dei più forti calciatori del mondo della sua epoca, scomparso il 23 gennaio del 1939 a neanche 36 anni in circostanze misteriose dopo essersi rifiutato di giocare con la maglia della Germania nazista in seguito all'annessione dell'Austria come provincia del Reich. In molti hanno parlato di questo straordinario calciatore, di questa straordinaria squadra. Tra i tanti uno dei libri più interessanti sull'argomento è sicuramente generazione Wunder Team, scritto da Joe Araf, che è il mio ospite di oggi, con cui andremo a scoprire chi è stato davvero Mattias Sindelar e quanto del mito che la circonda corrisponde a verità. Ciao Joe e benvenuto. Ciao a tutti, grazie mille. Allora Joe, io l'ho messa così a grandi linee, diciamo, la storia di Sindelar, il motivo per cui è famoso, insomma, un personaggio comunque un calciatore straordinario dal punto di vista tecnico, molto esile, soprannominato per questo carta velina, ma allo stesso tempo straordinariamente tecnico, rispettato da tutti gli avversari, uno dei calciatori più forti d'Europa, se non del mondo, della sua epoca, insieme a Meazza, Sarosi e pochi altri, un campione inarrivabile che però è diventato famoso più che altro, più che per la sua classe, per la classe mostrata in campo e per i successi ottenuti in Austria e anche in Europa, per la sua tragica storia, la sua tragica finale, insomma, su cui si è ricamato anche tantissimo. Ora andremo a scoprire piano piano chi è stato questo grande calciatore e quanto appunto c'è di vero nelle storie che si raccontano su di lui, però partiamo dall'inizio. Chi è stato Mattias Sindelar, calciatore, come è immerso e come si è affermato? Mattias Sindelar, come calciatore, è stato un centavanti, sebbene ricoprire il suo ruolo in modo molto molto tipico, non all'inglese, per esempio, quindi non con una fisicità, un'altezza, diciamo, di un certo tipo, ma con una grazia, con una tecnica e con una capacità notevole anche di assistere i compagni. È stato un precursore, come dire, del centavanti arretarato come ruolo, di quello che viene chiamato falso 9, falso 9, non che fosse stato il perimo, chiaramente, nella storia, però, diciamo, è stato uno dei massimi interpreti del ruolo in quella fase lì, in quel periodo lì tra le due guerre. Spiccava per tecnica, spiccava per dribbling, spiccava per eleganza, così veniva descritto da chiunque, dai tifosi della nostra Vienna, dai tifosi rivali, dai giornali del tempo e da degli intellettuali che si trovavano nelle coffee house viennesi del tempo per discorre e parlare di calcio, così come si faceva fino a qualche anno prima con l'arte, con la musica e col cinema. Quindi un centavanti, diciamo, di grandissima abilità tecnica, atipico, diciamo, per i tempi e diverso, diciamo, da quella che aveva la concezione più generale. Ecco, era soprannominato uno dei tanti soprannomi, diciamo, che lo accompagnavano, era anche il Mozart del calcio, proprio per la sua classe, diciamo, assoluta. Era molto diverso dall'idolo che lo aveva preceduto a Vienna, cioè Joseph Huridil, che era un giocatore completamente all'opposto per caratteristiche. Erano due ragazzi completamente diversi, accomunati soltanto da due cose. Vado pari verso le somiglianze, poi tocco le differenze. Le somiglianze sono, uno, il fatto di provenire da un ambiente tutto sommato simile. Erano entrambi giocatori di origini boeme e morale, quindi comunque ragazzi nati da famiglia che si erano insediati a Vienna negli anni precedenti ed erano andati appunto a popolare la capitale imperiale, che era la città più ricca appunto dell'impero, e nati in periferia, cresciute intervistorie che poi diventavano simboli, l'uno della Vienna, Huridil, e l'altro appunto dell'Austria-Vienna. Altra similitudine è il fatto che fossero ragazzi conosciuti per essere abbastanza introversi, abbastanza, diciamo, come dire, non tanto avvesse riflettori, non tanto avvesse la popolarità. Huridil raccontò, per esempio, che a un certo punto della sua carriera sentiva quasi di voler smettere perché quella popolarità che era diventata veramente notevole, mai vista a Vienna fino a quel momento, iniziava a pesargli molto fortemente. E Mattias Sindela è un ragazzo simile, molto riservato, non gli piaceva molto apparire e in questi due si somigliavano. Erano molto diversi da un punto di vista tecnico invece, perché se l'uno era più un giocatore, Huridil, più potente, più forte fisicamente, secondo qualcuno un po' l'archetipo degli umori delle periferie, della rabbia anche che si respirava, Mattias Sindela era molto meno forte fisicamente, molto meno potente, però molto più tecnico, molto più elegante. Altra differenza importantissima è il fatto che Huridil finisce la carriera attorno al 26-27, quindi Huridil diciamo rimane un fenomeno locale, viennese, no? Molto molto meno, non solamente The Rapid, ma viennese, però diciamo che non viene a contatto con le manifestazioni più importanti a livello internazionali, che invece conoscerà Mattias Sindela pochi anni dopo, la Mitteropa, la Coppa Internazionale e i mondiali, chiaramente. Mattias Sindela invece diventerà proprio un volto, diciamo, della nazione e mi viene a seguire. Sindela che comunque emerge relativamente tardi, per quelli che sono gli standard del campione, che ci immaginiamo già a 18 anni, il brillare di luce propria. Sì, 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 sì. Diciamo che Sindela forse non è neanche facilitato dal fatto che l'Australian in cui arriva una squadra forte ma un po' in declino. Lui arriva e vince uno squadetto poco dopo, un anno dopo, nel 25-26, ma non è un titolare, perché il titolare è Schaffer, questo attaccante ungherese conosciuto come il re del calcio, che appunto, diciamo... Imre Schaffer. E Alfred. Alfred Schaffer. Penso che tu ti confondi con Imre Schlosser, che è un'altra attaccante ungherese. Può essere? Sì, 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 sì. Fanno un po' di peripassi, ma sono due giocatori. Due cuori classi del tempo, comunque. E poi diventerà titolare, però appunto alla guida di una squadra non eccelsa. Ebbe un po' di difficoltà anche ad emergere in nazionale, forse perché appunto era molto tipico come giocatore, però quello che tu dici è vero, perché effettivamente lui, nato nel 1903, ha i suoi highlight che vanno dal 31, direi, al 38. Quindi comunque dai 28 anni ai 35, sì. Solitamente diciamo che i talenti puri o campioni dai 20 ai 28 hanno già, comunque sia molto da raccontare. Il Cinderella almeno, non solamente per colpa sua, un po' anche per il club in cui è, ma effettivamente sì, c'è questa peculiarità. Ecco, però diciamo che comunque i suoi più grandi successi e la sua più grande notorietà, oltre che alla classe sconfinata, la deve anche ai risultati che ottiene con l'Austria, che in quegli anni diventa una delle nazionali più forti d'Europa, se non del mondo. Questo perché Austria, Ungheria, sono paesi che comunque oggi magari calcisticamente contano poco, c'è Coslovacchia, ma che negli anni 20 e 30 sono delle vere e proprie potenze del calcio mondiale. La famosa scuola danubiana, ecco. Però, Cinderella però, in particolare, nel senso, è il simbolo, diciamo, prima di tutto, del Wunder Team, cioè della squadra che tu hai raccontato con il tuo libro. Sì, io penso che lui debba la sua notorietà un po' a quanto fatto con la nazionale, un po' a quanto fatto con il club. Diciamo che però sì, Wunder Team diventa Wunder Team nel maggio del 31, dopo un amichevole vinta contro la Scorzia, altra nazionale che oggi magari calcisticamente sia un po' ridimensionata, che però al tempo aveva uno spessore un po' diverso, e in quel momento lì la nazionale diventa per tutti i Wunder Team. E la peculiarità è che Mattia Sindel aveva giocato tutta la partita. Benissimo, una partita eccezionale. È stato scelto come titolare dopo che Maisl, comunque, tante volte lo aveva anche, diciamo, messo un po' ai margini. Maisl, che ricordiamo è il CT di quella straordinaria nazionale. Sì, Ugo Maisl era appunto il segretario della federazione calcistica di Vienna e in alcune fasi anche allenatori dell'Austria, esattamente. E ecco appunto lì Mattia Sindelera comincia a giocare più regolarmente, diventa titolare inamovibile, fa gol in continuazione in quella della Coppa Internazionale e l'Australa vince, vince la Coppa Internazionale, che era una sorta di, anche qua piccola precisazione per chi magari non conosce bene le competizioni del tempo, era una sorta di europeo, no? Tra le due guerre e sotto forma di campionato, non di eliminazione diretta, che l'Australa vince appunto in quell'occasione e Mattia Sindelera appunto fondamentale. Poi c'è tutta una, invece una notorietà che deriva un po' da quanto fatto con l'Australa-Vienna, perché comunque lui vince con l'Australa-Vienna in entrambe i casi, passando per la vittoria nella Coppa d'Austria, due volte la Coppa Internazionale, che invece è la Coppa campione tra le due guerre, e la vince appunto con una squadra che non era più forte di Vienna e tantomeno lo era a livello europeo. Tava Mattia Sindelera appunto decisiva in due occasioni, nel 33 e nel 36, si fa notare molto anche nel 37 con una stagione eccezionale, fa gol in una singola partita, semifinale incluso, e Tava in quel caso lì poi è il Ferenkvaro se lo andava in finale. Ecco, nel 34 questa meravigliosa Austria ha l'opportunità di lasciare il segno nella seconda edizione dei mondiali di calcio, che sono ospitati in Italia, ma finisce per essere eliminata proprio dai padroni di casa, in una partita molto contestata, una delle tante, a essere onesti, molto contestate in quel mondiale degli azzurri, pare anche che il fattore campo e il fattore ambientale con l'Italia sotto il regime di Mussolini pesi moltissimo, fatto sta che l'Austria viene eliminata con un gol molto molto sospetto, molto contestato, al termine di una partita veramente dura, veramente violenta, su cui le austriaci recrimineranno molto e da lì inizia una fase molto romanzata della vita di Mattias Sindelar, perché pare che venga ricoverata addirittura in ospedale e che qui in ospedale a Milano conosca quella che sarà la compagnia di vita. Su questo passaggio ci andiamo dopo. Intanto ti chiedo come è andata il mondiale del 34, diciamo l'unico che ha potuto giocare quell'Austria del Wunder Team? È un'edizione che in origine Jorimè non voleva, nel senso che nel 30, quando organizzarono il mondiale, l'Uruguay fu scelto in quanto era un paese democratico, era un po' un oasi rispetto al prima che si respirava tanto sull'America quanto in Europa, però poi erano subentrati anche dei problemi. Uno è il fatto che ospitare un mondiale in una città come Montevideo con pochi stadi realmente adibiti a una competizione del genere e non su scala magari nazionale era un limite molto grosso. Nel 34 c'è molta voglia di un'edizione mondiale aperta o comunque sia che contempli anche le potenze europee. Chiaramente era necessario fare un'alternanza perché altrimenti si scontentavano un po' troppo le nazioni europee. Perché nella prima le squadre europee avevano partecipato in poche e di mala voglia proprio perché comunque ai tempi di viaggiare oltreoceano non è che fosse proprio una passeggiata. No, era molto complesso perché non c'era una certezza diciamo sulla visibilità dell'evento che fu anche ignorato abbastanza sui giornali e forse anche le squadre preferivano comunque partecipare alla mitaropa che si teniva un po' nello stesso periodo. Alla fin fine quando tutte confermavano la loro partecipazione alla mitaropa il mondiale poi sarebbe iniziato senza appunto le formazioni europee. Nel 34 Jorimè consapevoli dei limiti del caso vede però un'opportunità nell'ospitale mondiale in Italia per il fatto che appunto l'Italia ha tanti stadi che possono accogliere in massa gli spettatori. Sono stadi dislocati diciamo tutti i territori da nord a sud, sono otto in tutto, molti di più che a Montevideo e quindi fondamentalmente l'Italia che è passata nel frattempo da qualche anno a professionismo si presta molto a questo tipo di discorso. Però chiaramente ci sono, si ripresentano i problemi che secondo me, i suoi diciamo accolti hanno preventivato e quindi comunque un'influenza molto forte di un governo, un clima arroventato perché siamo tra le due guerre, l'Italia e l'ospite del mondiale e alcune delle favorite sono nazioni nemiche al fronte solo qualche anno prima come Austria, Ungheria e Czechoslovakia, al tempo le più forti squadre europee e quindi diciamo c'è un po' questo clima che è fondamentalmente incandescente e condizionato diciamo dal fatto che appunto si giocasse in Italia. La scelta comunque ricade sull'Italia mussoliniana e come hai detto tu, come hai diciamo pronunciato tu, ci saranno diverse polemiche, tanto nella partita con la Spagna, tanto in quella con l'Austria, tanto in quella con la Czechoslovakia. La finale. La finale con la Czechoslovakia, sì. Una cosa, il dato di fatto è che fu l'unica edizione per esempio nella storia dei mondiali in cui un arbitro abiterò e la semifinale e la finale, lo svedese Eklind. C'era una terna abiterale, una diciamo una squadra abiterale composta da più della metà di direttori di gare italiani, altra peculiarità un po' unica e ci furono appunto diversi dubbi, diverse polemiche, diverse insomma dichiarazioni che lasciavano intendere che il clima fosse avvelenato. Sulla partita non specifico con l'Austria ci fu quel gol incriminato come hai raccontato tu, una carica sul portiere che al tempo era ammessa ma lì sembra proprio diciamo un parapiglia insomma abbastanza evidente e molti altri episodi insiti nella partita che pur non poggi scritti dagli austriaci in maniera molto molto insomma molto molto piccata. È anche vero che poi raccontare il calcio del tempo è una giungla perché quando parli di queste partite leggi la cronaca di un giornale italiano, ti dice una cosa, leggi quella di un giornale austriaco, sembra che abbiano visto un'altra partita. Quindi lì veramente la verità molto spesso, me ne sono reso conto, facendo un po' di ricerche, sta veramente nel mezzo per venire a capo. Dovremmo essere lì ma non possiamo essere lì. Comunque sì ci furono molte molte lamentere, Mattia Sinder uscì malconcelo con la partita e poi l'Austria avrebbe vinto il mondiale e l'Italia avrebbe vinto il mondiale. Certo, e Sinderer va in ospedale e conosce la compagna di vita Camila Castagnoli oppure no? No, nel senso che questa è effettivamente un po' una è una storia che è proliferata molto negli anni su blog, su internet, anche su alcuni libri se non sbaglio, però la Castagnola in realtà è una storia diversa alle spalle. La Castagnola è una delle compagnie di Sinderer che storicamente non aveva mai avuto una storia molto lunga e i due si erano conosciuti anni dopo, in realtà più o meno in concomitanza con quando poi i due moriranno, qualche settimana prima. Lei tra l'altro non era italiana, lei era austeriaca, aveva acquisito il cognome di Castagnola perché era stata sposata con un italiano qualche tempo prima e aveva acquisito il cognome di Castagnola, ma in origine si chiamava Camilla D'Unspectro. Ok, questo è una delle tante cose che incominciano poi a circolare, che vengono riscritte nella storia di Sinderer. Questo perché, chiaramente nel senso che poi il campione può essere raccontato in mille maniere diverse, ma quello che raccontiamo oggi è l'uomo dietro il mito, la verità dietro la leggenda. Questo grande campione, nel momento in cui comunque la sua carriera incomincia a essere, dovrebbe essere in fase calante, ha l'opportunità, diciamo così, magari non molto cercata, di cambiare nazionale. Questo perché la sua Austria cessa di esistere in seguito all'annessione, all'Anschluss, alla Germania nazista. Un'annessione che arriva in maniera anche abbastanza pacifica, diciamo, e che porta in qualche maniera l'Austria a sparire come paese, a trasformarsi nell'Ostmark, appunto nella provincia orientale del Reich, che però non viene accettata da tutti e sicuramente non viene accettata molto con piacere a Sinderer. Anche qui però poi si entra nel campo della leggenda, perché la leggenda narra che durante l'ultima partita dell'Austria, prima dell'annessione, che è un amichevole contro la Germania, chiamata Anschluss-Piel, cioè la partita dell'annessione appunto, nonostante sia stato concordato in avvio di partita di giocare a ritmi molto blandi, senza farsi del male, né da un po' punto di vista fisico, né da un punto di vista del risultato, Sinderer in un motto d'orgoglio decida di umiliare comunque i tedeschi, segnando un gol straordinario e poi andando a festeggiare sotto le tribune dove si erano i gerarchi nazisti, in maniera diciamo abbastanza irridente. Si dice anche che prima della partita rifiuti, insieme al compagno Karl VI, di salutare in maniera, con il braccio alzato, insomma, effettuare il saluto nazista, come imponeva all'epoca il protocollo, diciamo così, della Germania e anche dell'Italia, e che per questo si attiri le prime antipatie del regime. Quanto c'è di vero nella storia di Anschluss-Piel? Beh, c'è di vero che quella partita lì fu una partita volta a favorire il referendum che si sarebbe tenuto una settimana dopo e che avrebbe, come dire, soggellato l'annessione dell'Auster alla Germania, convertendola di fatto nell'Ostmark, la provincia dell'Est, come tu avevi puntualizzato. E fu un evento, diciamo, che aveva questo scopo principale, supportato anche poi da una campagna in cui i calciatori furono molto attivi, con delle firme sui giornali, in cui si dicevano favorevoli al sì, laddove sì voleva dire sì sia favorevoli all'annessione. E poi con un secondo obiettivo, che era quello di avere una veterina in vista dei mondiali, mondiali ai quali la Germania si era rappresentata, con anche dei giocatori austriaci, nel frattempo diventati tedeschi. Quindi diciamo che fu una partita, diciamo, avendo questo dubbio obiettivo. Non penso che nella mente di chi l'ha organizzata ci fosse un obiettivo preciso circa un favorito, un risultato. Penso che fosse una partita fondamentalmente amichevole, così poi sarebbe stata descritta anche da chi la vide. Una testimonianza viene da questo ragazzo, che si chiamava Gunther Dubek, che è stato anche calciatore a un livello basso, al tempo era un bambino, descrisse quella partita come una partita, l'insegna veramente del fair play. Lui disse che nemmeno adottakering, che era un quartiere di Vienna, c'era un fair play del genere, ovvero che quando qualcuno cadeva l'avversario a fianco lo rialzava, per esempio. Quindi fu una partita molto, 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 molto distesa. Quindi questa è la prima cosa che cozza un po' con quanto qualcuno ha raccontato, no? Cioè non era un clima così arroventato, era un clima abbastanza disteso e non ci furono atteggiamenti ribelli. C'è un video, ci sono delle foto che mostrano i giocatori austriaci fare il saluto prima della partita. Sesta e Sindelar compresi. Poi la partita fu una partita effettivamente che cominciò con la Germania più all'attacco. Ricordiamo, scusami, gioco, che la Germania ai tempi non era comunque la potenza calcistica che ha adesso, a differenza dell'Austria. Diciamo che oggi i ruoli sono completamente invertiti. Ai tempi l'Austria era palesemente superiore. Sì, tutti i precedenti deponevano a favore dell'Austria. Alle volte avevano vittorie anche abbastanza nette. C'era stato un 5 a 0, un 6 a 0 per l'Austria e era netta la sensazione che il calcio austriaco fosse molto, molto avanti. Di fatti poi, poco prima che si giocasse il mondiale, quando diventò popolare la dieta riba, se chiamavano i giocatori dell'Austria, se sì, in quale quantità, un giornale tedesco provocò terremamente, però fosse, di chiamare soltanto i giocatori austriaci perché erano molto più forti. Poi, di fatto, si arrivò a un compromesso convocando tanto i tedeschi contro gli austriaci. Comunque sì, l'Austria era più forte. Andò in vantaggio come per Sindel poi, nel secondo tempo. Fu un gol abbastanza, se vogliamo, normale. Binter prese un palo. Binter era stato fischiato asperamente per aver fallito un'occasione poco prima. Sindel era accorso e tirò nell'angolino e portò in vantaggio l'Austria. E poi fece un gol sesta, mi ricordo che minuto, comunque poco dopo, un tiro da lontano, una punizione da molto lontano che si è preso il portiere. Io ho anche un video in cui si vedono i gol, però si vedono molto male, molto sfocati. Però si vede appunto il portiere che non si aspetta questo tiro. La palla lo superava dentro, vede 2-0, che appunto la partita muore un pochettino lì. Ecco, però provocazioni in faccia a Gerarchi e arrabbiatura da parte degli stessi non ci sono state. No, ci fu un'esultanza di Mattias Sindel a un certo punto dopo i gol. Qualcuno sostenne che fosse un balletto fatto davanti a Gerarchi, che fa già ridere detto così, però in realtà lui era andato lì a festeggiare, semplicemente, con i compagni perché poco su c'erano dei tifosi osteriaci che si trovavano a Austria e lui è andato a festeggiare, anche perché ricordiamoci che era l'ultima partita dell'Austria, quindi aveva una sorta di saluto che veniva tributato ai tifosi. E poi a fine partita lui fu intervistato, fu un'intervista molto molto distesa, non c'è nessun giornale osteriaco quel giorno dopo poi riportò, o tedesco, che riportò atteggiamenti rivoltosi o insomma degni di dimensione. Ecco, però la non condivisione della politica nazista di Sindel può essere riassunta in due fatti. Il primo è appunto la rinuncia reiterata a rispondere alle convocazioni del CT tedesco in vista dei mondiali del 38 e la seconda è anche il fatto dei rapporti che comunque lo legavano alla dirigenza dell'Austria-Viena, la squadra che lo aveva scoperto, che lo aveva valorizzato, l'unica squadra diciamo della sua vita a livello di club e che erano dirigenti ebrei che vennero comunque perseguitati e allontanati. Sì, negli anni tra le due guerre c'era una grandissima spinta al cambiamento e molti giocatori probabilmente l'avevano anche sposata, avevano starizzato l'occhio comunque al nazismo perché nel 34 per esempio ci fu un tentato colpo di Stato fallito ma che portò alla morte le cancelliere rincarica, Dolpus, e da lì in poi però gli accoliti e il movimento aumentavano moltissimo e sicuramente più di un giocatore diciamo come dire aderì a queste idee, uno sicuramente con compagno di Mattia Sindel, questo Mock, Hans Mock. Sindel però pare proprio di no, Sindel era un giocatore molto legato appunto all'Austria-Viena, al presidente dell'Austria-Viena, amico di molti dirigenti anche belli dell'Austria-Viena e nel 2008 quando poi il lancio fu divenne ufficiale diciamo salutò il suo presidente con una lettera molto bella in cui in cui diciamo diceva una cosa del tipo che nonostante avesse il diritto di salutarlo se ne sarebbe fondamentalmente infischiato ecco. Sì, me la ricordo. Mi dicano di non salutarla, io la saluterò tutte le volte che la incontrerò, qualcosa del genere insomma. Esattamente, qualcosa del genere e poi sì effettivamente lui, questo lo ricordo anche Berger, fu effettivamente come dire sollecitato a partecipare al mondiale con la maglia della Germania, rifiutò in più di un'occasione adducendo quale problema i fastidio al ginocchio che c'erano. Però Berger poi disse anche anni dopo che ha avuto più volte la sensazione che Sindela in realtà fosse diciamo più infastidito da altre problematiche che non erano relative all'infortunio. Effettivamente lui devo dire che negli anni ha sempre avuto Ciacchi al ginocchio ma in qualche modo era sempre riuscito un po' a saltararli. Nel 37 come dicevo per prima ha fatto una grandissima stagione e Ciacchi ne ha già avuto anche prima e comunque giocava sempre con la banda al ginocchio. Quindi alla fin fine lui rifiutò di giocare con la Germania. La Germania convocò alcuni giocatori esterici di assoluto valore però non proprio i principali per varie ragioni perché anche Joseph Bitson di cui si sta parlando un po'. A oggi ancora Cristiano Ronaldo permettendo è il più grande realizzatore nella storia del calcio ricordiamolo. Sì se ne parlo molto ultimamente perché Ronaldo mi sembra che sia molto vicino ad eguagliare e superare i record. Joseph Bitson per esempio è un altro giocatore dichiaratamente avverso al regime che qualche tempo prima è emigrato a Praga e quindi fondamentalmente ha avviato un'Italian per la cittadinanza cecoslovacca e quindi non era convocabile dalla Germania. Quindi non c'è Sindelar, non c'è Bitson. Per una scelta diciamo tecnica non c'è Binder, un altro grande attaccante. Ci sono altri giocatori di buonissimo livello ma forse non diciamo i volti principali. Il Bunderteam è morto diciamo in quel momento, è morto con la morte di Maisel, con il ritiro di Sindel e con l'Anschluss, con l'annessione alla Germania. Morto? È morto definitivamente con l'Anschluss, certamente. A livello formale diciamo c'era già un pochettino comunque ridimensionato, anche se va detto che nel frattempo erano nati altri talenti nel calcio storico. Binder stesso per esempio non aveva giocato al mondiale del 34 ma era molto giovane. Poi c'era Camillo Gerusalem che era forte. Alcuni giocatori del 34 comunque erano ancora giovani e potevano giocare. Non fosse intervenuto l'Anschluss, avremmo visto comunque un'Anschluss competitivo anche nel 38 io credo. Invece la Germania al 38, nonostante le grandi premesse, cioè innestare una nazionale comunque fortissima in una nazionale che comunque per quanto non fosse di primissimo fascia era comunque pur sempre la Germania, comunque un minimo di spessore ce l'aveva, nonostante le premesse in realtà la Germania va malamente fuori subito con la Svizzera di un austriaco tra l'altro. Sì, Carappan, sì 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 sì. Carappan era considerato... Carappan è un inventore diciamo del verru, del catenaccio, almeno uno dei primissimi interpreti che con questa tattica riesce ad annullare le velleità tedesche e a eliminarla al primo turno. Grande delusione, pare che Hitler, qui non so se dico una cosa giusta, ma pare che Hitler non avesse mai avuto una grande passione per il calcio e probabilmente lì l'è passata completamente. Sì 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 sì, tanto Hitler e Mussolini non amavano il calcio, però riconoscevano entrambi il potenziale di cadere sulle folle, sulle masse e quindi insomma sapevano bene che per esempio una partita domenicale era una promessa facilmente mantenibile, quindi comunque sia in un clima roventato come quello che c'era, il fatto di avere comunque una distrazione per la gente era comunque molto molto importante. Sì, diciamo che le aspettative erano molto più alte, oltretutto c'era stato un fallimento pergresso che era quello dell'Olimpiadi del 36, dove la Germania fa male, fondamentalmente fa male, esce subito se non sbaglio e nel 38 accade la stessa cosa, si presenta favorita almeno per quanto riguarda il confronto con la Svizzera, finisce in realtà in pareggio ma poi si gioca il replay e finisce 4-2 per gli Svizzera in rimonta, quindi questo vero praticamente che secondo qualcuno è un un antesegnale catenaggio, secondo qualcuno lo è del 4-4, si rivela vincente paradossalmente in un momento diciamo in cui la squadra deve rimontare, quindi prevede due gol, poi però ne fa 4 e la Germania appunto va a casa. E in quel momento diciamo Sindelar è in tutte altre faccende affaccendato, come si potrebbe dire, nel senso che comunque vive a Vienna, è rimasto insomma a vivere a Vienna ma si è dato agli affari, perché con, questo me l'hai insegnato tu stesso, quindi ripeto pari pari quello che mi hai detto più volte, con l'annessione alla Germania, Laus è tornata indietro di parecchi anni ed è tornata fondamentalmente a un calcio, a un regime calcistico dilettantistico, quindi ha abbandonato il professionismo e quindi i calciatori si devono reinventare nella vita di tutti i giorni. Sindelar ha deciso di reinventarsi gestendo un caffè, un bar, insomma un locale che ha tra l'altro acquistato da un ebreo che in qualche maniera è stato costretto, come funzionava allora sotto questi regimi, a cederlo a basso prezzo e Sindelar diciamo appunto è diventato quindi un proprietario di pub, se vogliamo dirla proprio in maniera così, giusto? Sì, praticamente nel 38 si torna a un modello amatoriale in Austria, lo stesso accadrà poi in tutti i paesi in cui la Germania andrà ad insediarsi e chiaramente i calciatori non possono più guadagnare degli stipendi regolari da pochi club, forse qualcuno come Accademia in Germania ne dà sotto banco a titoli più che altro di rimborsi spese, però chiaramente poi diventa fondamentale per i giocatori che comunque possono continuare a giocare, non pagati, trovarsi un'occupazione remunerata. C'è chi appunto viene aiutato dal comune di Vienna per esempio trovare dei lavori sui uffici appunto comunali e c'è chi invece opta per avere un'attività a livello privato. Casi così sono Zizek che prende un caffè, Scarsesta che prende una panetteria, caffetteria di un franchising, si chiamava Harmel Brotwerke e il caso più conosciuto però appunto Mattias Sindelar che acquiste il caffè Anna Hoppe, un caffè che come ricordato tu apparteneva a Leopold Rill che sarebbe proprio stato deportato e assassinato a Theresienstadt o Theresin e che appunto si trova nel quartiere di favorite dove Mattias Sindelar viveva. Infatti i due, Drill e Sindelar, si conoscevano sicuramente a qualche livello. Non si sa bene se fosse un'amicizia, una simpatia, però comunque un rapporto diciamo di conoscenza ma sicuramente si conoscevano. E sì, come detto più giustamente, il caffè fu rilevato una cifra molto 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 bassa rispetto a quello che valeva e la faccenda poi sarà andata molto avanti negli anni anche dopo la guerra, con il ritorno poi del locale alla famiglia dei Drill. Ecco, mentre gestisce questo caffè comunque, e qui arriviamo alla parte più importante forse della leggenda di Sindelar, quello che lo consacra diciamo nel mito, perché senza una morte tragica e giovane si starebbe parlando adesso di un grandissimo calciatore come è stato un grandissimo calciatore Meazza, Sarosi e i suoi contemporanei, mentre invece Sindelar si trasforma in un mito anche a causa della sua morte. Una morte che arriva, come abbiamo detto, il 23 gennaio del 1939, quando una mattina viene trovato privo di vita nell'abitazione, credo, della compagna. Sulla Anna Gasse. Anna Gasse è una via di Vienna dove abitava la Castagnola, sì. Ecco, in circostanze misteriose, perché in realtà da subito si dice che siano morti per avvelenamento da monossido di carbonio, probabilmente dovuto a una stufa difettosa. Naturalmente è una spiegazione che convince o non convince, perché comunque si dice che Sindel era un personaggio scomodo, che sia stato ucciso dalla polizia nazista. dalla Gestapo. Si dice anche che si sia addirittura, o se no alternativamente, questo lo sostiene il grande poeta Fredrik Thorberg, suicidato dopo essersi reso conto che la sua Austria non esisteva più. Sono tutte storie su cui si ricamera molto, sono stati scritti dei libri e molte vengono poi prese, come poi è successo anche con la partita della morte, vengono prese per vere anche perché sono troppo belle, sono troppo romantiche. È la verità, però, Joe, mi insegni te che potrebbe essere molto più banale. Sì, diciamo che le versioni che poi pauriferano sono queste qua. Il suicidio, versione che romanticamente, poeticamente, viene proposta da Thorberg, che però, appunto, è un poeta, quindi ci sta che magari abbia dato questa chiave di lettura, molto bella, se vogliamo, di grandissimo impatto, però che sembra cozzare un pochettino con quello che è stata la vita di Sindel al poco prima della sua morte, perché Sindel comunque non dava segnali di depressione, sembrava molto contento della sua vita, si era appunto diventato con l'Anna Hoff, aveva aperto un'attività, era diventato anche testimonial per i lavori in corso che stavano avvenendo al Parater, si era detto molto orgoglioso di quell'incarico, quindi era un ragazzo che stava vivendo una sorta di seconda giovinezza, sempre più lontano dai campi da gioco, anche se comunque continuava a giocare, ma sempre più nell'ottica appunto di diventare magari un pereditore. E poi anche la sera stessa, che lui appunto torna dalla Castagnola, lui è reduce da una serata con amici, in cui si è bevuto, si è giocato a carte, si è scherzato, e tutti lo descrivevano come di ottimo amore, come di un ragazzo che era molto felice in quel momento lì. Quindi diciamo che questi porti gli sembrano un po' a decadere per tutti questi elementi che precedono l'accaduto. E la seconda versione, anche questa molto in vogue, è stata quella della morte, come dire, organizzata, orchestrata, di gerarchi nazisti, questo in virtù appunto di alcune cose che abbiamo accennato prima, quindi magari del rifiuto a giocare con la nazionale, piuttosto che del mancato saluto, eccetera, eccetera. La non condivisione degli ideali nazifascisti. Sì, sicuramente una non condivisione in parte c'è stata, perché è vero che quando lui ha aperto l'Anna Hof, all'evento hanno presenziato anche dei gerarchi. È anche vero che però poi dopo che con lui morirà, il capitale Sindelar verrà sottoposto amministrazione straordinaria e, come dire, sottratto, diciamo, dalla proprietà delle sorelle di Sindelar, con la motivazione che Sindelar non aveva sostenuto la causa nazionale socialista e che aveva appunto simpatia e baraiche. Quindi sicuramente in una certa misura lui non ha, come dire, non ha promosso, diciamo, questo ideale, però sembra un po' poco pensare che lui sia stato ucciso per queste cose, a parte il fatto che poi molte, come abbiamo detto prima, sono un po' leggende, quella accaduta nel 1938, durante la scelta del spill. E poi è difficile pensare che il regime rischi di inimicarsi la popolazione locale facendo fuori un errore nazionale come Sindelar è diventato. Oltre tutto a distanza di mesi, quindi a freddo, in un momento comunque sia di consenso, anche, no? Perché comunque i nazisti nel 1939 hanno un buon consenso a Vienna, un ottimo consenso. E la versione invece oggi più acreditata a Vienna considerata come l'unica possibile è quella della morte per cause incidentali, ovvero quella relativa alla prima che dicevi tu, ovvero quella per inalazione di monossido di carbonio, sulla quale fu fatta tra l'altro un'autosia che confermò questa causa come causa dell'incesso ufficiale. oggi diciamo è più o meno dato per certo che la causa fu questa qua, il fatto che la coppia fosse morta per incidente, Mattia Sindel fu trovato però per un morto la mattina dopo, la castagnola no, ma si è morta in ospedale poco dopo, una volta portata. Bene, Gio, siamo arrivati praticamente alla fine di questo video, ringrazio tutti tra l'altro quelli che lo guarderanno e che lo seguiranno perché comunque c'è tanto da parlare, ricorda anche a tutti di iscriversi e di mettere un like al video per aiutare questo canale a crescere. Però ti voglio salutare con un'ultima domanda che è quella che poi ho fatto anche a Edoardo, l'altro mio ospite, sulla partita della morte. Anzi, in realtà sono un po' due domande. La prima è questa, è giusto quindi parlare oggi di Mattia Sindel come di un simbolo contro il nazifascismo? E la seconda è perché nonostante tante evidenze raccontino una storia molto più normale di quella che si è raccontato il mito di Sindelar che si oppone al regime, che per questo viene ucciso, continua, si è sempre pagato e continua comunque tuttora a esistere? Sono due domande che hanno un filo, che hanno un collegamento, secondo me, nel senso che io non credo che Mattia Sindelar possa essere considerato un simbolo di resistenza, non credo che lui ci abbia mai tenuto, non credo che lui l'abbia mai neanche desiderato, lui diciamo era un volto molto spendibile da questo punto di vista perché era appunto il simbolo calcistico ma più in generale un simbolo dell'Austria, quindi quando poi ci fu nel secondo dopoguerra la necessità di prendere distanze da quanto era avvenuto e anche da un collaborazionismo che c'era stato, Mattia Sindelar, diciamo, era, come dire, un eroe, come dicevo per io, abbastanza spendibile perché era appunto una celebrità, quindi io credo che la sua figura abbia fatto un po' il gioco di chi comunque sia voleva distanziarsi dai fatti tragici della guerra e del holocausto. La seconda domanda, scusami? È quella relativa al fatto del perché comunque nonostante le tante smentite che ci sono state, la gente tende comunque ancora oggi ad accettare di più la versione romantica della storia, forse perché è più bella? Ma smentite neanche tante, sai, perché poi in realtà la letteratura sportiva sappiamo non è come la letteratura storica, nel senso che si è scritto di meno, si è parlato un pochettino di meno, parliamo comunque di un'epoca senza immagini, quindi comunque poi ricostruire alcune vicende non è molto 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 semplice. Beh, diciamo che ciò che è uscito in alcuni paesi sono dei romanzi storici belli, con una natura appunto però romantica, che magari storicamente non hanno l'attendibilità che possono avere dei saggi, per esempio. E poi io penso che abbiano fatto un po' spuola questi romanzi storici che sono stati presi come come veritieri, non appunto come romanzi. A Vienna, come dicevo prima, la storia ad oggi è abbastanza conosciuta per quella che è stata, in altri paesi magari molto molto meno. Credo che sì, diciamo che poi essendo non stava molto d'impatto, più di una persona avrebbe voluto fare la sua e adesso diventa anche difficile comunque distanziarsi da una visione così bella, così ideale, così romantica, del calciatore, eroe che magari come dire, si ribella, così. Però, voglio dire, poi rimane comunque un grandissimo giocatore, come dicevo, no? Un grandissimo campione, unico da un certo punto di vista, che appunto ha segnato la sua epoca e l'ha fatto tanto a livello di club come di nazionale. Bene, Gio, sei stato più che esauriente. Io ti ringrazio per il tempo che mi hai concesso. Ricordo a chi vede questo video che è possibile acquistare il tuo libro, Generazione Wunder Team, lo metterò nei link qui sotto in descrizione. Ricordo anche che sei uno dei collaboratori, nonché creatori, di Game of Goals, un sito iper approfondito che racconta tante di queste storie, ma non è soltanto, non soltanto a livello di storytelling, ma proprio andando a scavare nei fatti. E quindi invito tutti quanti a seguirti, a seguirvi. e niente, vi saluto ragazzi e ti saluto Gio, ciao! Grazie Simone, grazie a tutti, ciao! E alla prossima, ciao ragazzi!